Un'iniziativa allodevole e al servizio del cittadino. È attivo infatti da circa un mese a Sturno l'ambulatorio infermieristico comunale. Nei locali di Via Trento, già sede della comunità tutelare Paradiso Verde, i cittadini possono recarsi per ricevere assistenza da parte di un infermiere. Ci si può rivolgere al presidio per la rilevazione della glicemia, della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, per una semplice medicazione e la rimozione di punti di sutura. Ma ancora saranno fornite informazioni sull'uso corretto di farmaci e per la misurazione della saturazione dell'ossigeno. Per il momento l'ambulatorio è in funzione due giorni a settimana, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 11. Ma come conferma il sindaco Sturnese Vito Di Leo, l'idea è quella di rendere il progetto intercomunale. Per il momento funziona due giorni a settimana, in via sperimentale da ottobre. Dal mese di gennaio sarà attivo un giorno a settimana, sempre in via sperimentale. Poi naturalmente lo dobbiamo calibrare, vediamo un poco anche la risposta dei cittadini, se ne servono o meno di questa struttura. Credo di sì, perché già abbiamo tante adesioni e tante richieste da parte della gente. Ma dirò di più, noi stiamo lavorando, io personalmente, con la Presidente dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufida e con gli altri sindaci, per attivare questo servizio in tutti i comuni, in tutti gli otto comuni dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufida. Questo che significa? Che avremo un servizio per tutti i giorni della settimana, perché faremo in modo da avere il lunedì, magari a Sturno, il martedì a Friggendo, il mercoledì a Gesualdo e così via, in maniera che anche il cittadino di Sturno o di Friggendo, nel momento in cui ha bisogno di questo servizio, se non può rivolgersi a Friggendo perché quel giorno è chiuso, può venire a Sturno o può andare a Gesualdo. E' questa l'idea, quindi un servizio che metteremo in rete. Già hanno risposto positivamente Grotta Minarda e Villa Maina, contiamo di coinvolgere anche gli altri comuni dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufida.